L'artista retina Fiorangela Filippini è stata scelta personalmente da Vittorio Sgarbi, il più grande critico d'arte italiano, per la mostra d'arte contemporanea I Mille di Sgarbi. Le opere di Fiorangela sono di grandi dimensioni, una delle quali è un omaggio alla battaglia di Eraclio e Cosroè di Piero della Francesca. I Mille di Sgarbi vuole essere una fotografia sullo stato dell'arte contemporanea in Italia, con la finalità di far conoscere il lavoro degli artisti che vivono e creano sul territorio italiano. Vittorio Sgarbi ha selezionato personalmente i lavori inviati dagli artisti, tra cui quelli di Fiorangela Filippini, oltre a curare la mostra e la prefazione del catalogo. Le opere saranno in esposizione unica a Cervia presso i magazzini del Sale dal 31 maggio al 9 giugno.